Nessuno me l'ha chiesto, ma io lo voglio fare. Ecco il mio tattoo tour. Proprio tour no, perché in realtà ne ho due di tatuaggi e rappresentano le cose che amo di più. Mio fratello e il doppiaggio. Con mio fratello ho fatto questo tatuaggio. Me l'ha regalato per il mio diciottesimo compleanno ed è stata una sorpresa inaspettata. Se volete ve la racconto in un altro video. Ed eccolo qui. No, non ha fatto per niente male. Penso che il significato sia intuibile. Noi siamo sempre stati molto legati. Oh, che cosa sto alcinato. Bene, dopo questo possiamo andare avanti. Questo invece è il secondo. Questo ha decisamente fatto molto più male. Anche qui penso che il significato sia intuibile. È un microfono da cui poi parte un elettrocardiogramma. Ed eccolo qui. Grazie a tutti.